Bene, sulle Alpi ha nevicato moltissimo fino a metà a dicembre, non sono previste altre nevicate significative, ma ormai su gran parte dell'arco alpino si va da 1 ai 2 metri. I maggiori accumuli sono sulle Alpi Piemontese e sulla Val d'Osta, dove ormai gli accumuli sono fino a 2 metri a quote tra i 1.500 e i 2.000 metri. Quindi una buona notizia per coloro che hanno deciso di andare a sciare, ma attenzione, come tutte le buone notizie c'è anche il risvolto dalla medagna, ossia il rischio valanghe. Nonostante probabilmente non ci saranno più nevicate significative tra il 20 e l'ultima decada di dicembre, il rischio valanghe sarà sempre in agguato, perché se le temperature come è previsto risaliranno, questo aumento delle temperature in montagna farà sì che nelle quote, nelle aree più innevate a quote intorno ai 1.500 metri, le temperature possono salire di sopra dello zero e quindi qui la neve si allenta e potrebbe dar luogo a valanghe, quindi state attenti, state accorti direbbero al sud, perché se uscite fuori prista rischiate. Vi è piaciuto questo video? Bene, allora iscrivetevi qui, ma se volete vedere altri miei video su argomenti interessanti analoghi, allora vedete qui e qui, vedete qui e qui, vedete qui e qui, vedete qui e qui.